si e benvenuti sono il simon 0 3 oggi siamo qua con il secondo episodio di slender deriva insieme anni che 0 4 non solo e non ce l'ha ce l'ha siamo affermati qua non so che cazzo fuori devo uscire di qua corri oh guarda c'è una pagina forse no va a cagare oh c'è una pagina questo non mi interessa non mi interessa cosa sta qua andiamo cazzo si vede tutto viola che cacchio ok non devo andare di qua eh quello di si però guarda eh si caghe ci sono c'è qualcuno lì c'è qualcuno cos'era oh c'è c'è ci sei ancora nel party sì sì io sono slender man eh io già qua sono in mezzo eh ragazzuoli siamo un po' in mezzo adesso eh oh me lo trovo al cesso che sta cagando no ok io sono slender man lui è slender man fate attenzione raga eh che casino cargo vabbè qua c'è la niente sono passate prima andiamo di qua ci sono nel aspetta lì c'è un contenitore di acqua aspetta che andiamo ma c'è una pagina oh ecco la pagina c'è una foto uno su otto una pagina su otto andiamo di qua e c'è una jeep ma quella lì all'inizio mi sembra vaffanculo 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 bastardo è lì è lì è lì è lì scusate ma eh dov'è ah è là è là guardatelo dai che pare cosa vuole ho visto slender eh lì oh niki ci sei? c'è più io sono lì mi occupo è la madonna non si deve andare vediamo che qua c'è una pagina no io sono andato prima c'è una pagina togliamo su di quale? si vede niente ma che ci devo fare? andiamo di qua qua ci sarà qualcosa ci scommetto eh ci scommetto ci scommetto ci scommetto ho vinto ho vinto due su otto non so se riuscirò a prendere tutte quattro minuti di registrazione nooo che palle i cani che abbagliano fuori sta arrivando un slenderment è dietro di me ci sono i cani che abbagliano fuori ci sono i cani che abbagliano intanto fuori ma vabbè che ci possiamo fare? vabbè sono cani sono tre non ci sarà più non ci sarà più niente poi nemmeno via almeno credo no ce ne sono due nello stesso punto è dietro? ok ecco qua qua c'è qualcosa no? c'è niente cos'è? niente eh che palle ma sono bellissime hai rotto le palle mi hai rotto è lì? che senso è volendo? è dietro di te in culo sta sempre si capisce più niente dov'è? c'è più? ok ottimo e se in mezzo agli albi non c'è niente vabbè saliamo su di qua non so se sono andato non credo siamo a 6 minuti e 47 di registrazione cosa sei qua? ce ne sarà una eh 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 metterla qua è dietro oh 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 che cacchio è? non c'è più ottimo vaffanculo vaffanculo va fuori davanti scappiamo vanno scappiamo mi segue Allora sette minuti No c'è più ok Qua siamo dovevamo prima E non c'era niente qua dentro No io controllo da fuori Non c'è niente E sono già andato E la madonna Mi spunto in avanti Non è come l'Islander classic Andiamo su di qua Non si può Dove sei Non so per dove andare Terribile Ho fatto una macchina Non mi spuntare qua Che Magari c'è qualcosa Qua no Eccolo qua Cinque su otto Dai raga Fazzare in culo Au Ok Eccola Scappa Madonna Che si sente nel video Non urlare Va soffiare Va cagare E' lì Si è bloccato Via 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 Non c'è proprio il tempo Per caricare questo video Non c'è anche il tempo Di trovare le pagine Andiamo qua in mezzo Intanto Quello che c'è Vediamo C'è niente Ovviamente E' dietro E' l'allurare Non c'è più Vuoi andare di qua Nuo al lago Ma c'è qualcosa Dio un po' Non c'è l'acqua Non c'è l'acqua Non c'è l'acqua Non c'è l'acqua Vabbè Le altre pagine Non le troviamo Comunque E lui è finito qua Se questo video vi piace Ti metto un like Mi piace Che è uguale ovviamente Iscrivetevi al canale Se ancora non siete suiti Piano per i prossimi video Iscrivetevi al canale Di michiel04 E ci vediamo al prossimo video Bella Ciao Prendimi Mi faccio prendere ragazzi Vieni qua Ti abbraccia Ti abbraccia Ti abbraccia Ti abbraccia Ti abbraccia Ti abbraccia